Allora, questo invece è l'N78, altro annuncio di Barcellona, l'N78 è un design molto compatto, sottile, con una fotocamera 3.2 megapixel, HSDPA, wireless online integrata e anche questo ha tutti i servizi che abbiamo lanciato, quindi sia la parte di musica, Nokia Music Store, sia la parte gaming engage che Maps 2.0, quindi anche questo assolutamente completo, tastiera molto particolare con tasti praticamente a scomparsa, Maps 2.0 quindi vi dicevo sia la possibilità di appunto navigazione pedonale che navigazione in automobile e Video Center, un altro servizio in cui è possibile vedere dei trailers piuttosto che delle news fatte da partner come per esempio Reuters e Geotagging, quindi anche questo la georeferenzialità delle foto e dei video che prendo. In più anche questo ha Share on Ovi direttamente on board come applicativo.